Non contava come, non contava con quale risultato, contava solo vincere. Il Zambiase riesce nell'intento di battere la Nissa nell'anticipo del 14esimo turno, grazie ad un rigore realizzato dallo specialista Lio, e si porta a 15 punti, scavalcando momentaneamente la Cavese, avvicinandosi a Licata e alla coppia Vibonese-Agropoli. Al di Polito va però in scena una gara brutta, caratterizzata da un terreno di gioco pesante almeno quanto la posta in palio, ossia punti vitali in chiave salvezza. Le due squadre sembrano contratte, Morelli e compagno osano decisamente qualcosa in più, mentre la Nissa pensa più a non prenderle. Nella prima frazione, ospiti non pervenuti, De Sio interpreta il ruolo di spettatore non pagante. Il Zambiase cerca invece di fare la partita senza concedere campo agli avversari. Dopo le proteste per un probabile intervento di mano in aria nissena al settimo, la prima vera azione del match arriva al sedicesimo, con lo spunto personale di Carrozza che scambia concorcio e conclude sull'esterno della rete. Quindi ci prova per due volte Lio. Prima su punizione, con palla che termina poco distante dal sette, poi con un colpo al volo che costringe a Mendola l'intervento in due tempi, disturbato da Chirillo in posizione di offside. La gara si sblocca al trentatreesimo, quando Russo viene sgambettato in area di rigore. Torsello di Michelino decreta il penalty che Lio non sbaglia, nonostante a Mendola arrivi sul pallone. E' la rete che segna il ritorno al gol di Lio a digiuno di segnature dal 5 a 1 ai danni del palazzolo, giorno dell'ultima vittoria stagionale dei giallorossi, datata a 30 settembre. E sarà anche la rete che deciderà il match. La Nissa nel primo tempo è tutta qui. Solo qualche conclusione sbilenca che De Sio deve solo guardare mentre termina fuori. Siciliani più propositivi nella ripresa ma mai veramente pericolosi. E' sempre il Sambiase a fare la partita. Lio ci prova da fuori, mira da rivedere. La mira del numero 10 è invece buona quando mette questo pallone in mezzo per Cordiano che non ci arriva per un soffio. Mentre la conclusione di Russo dal limite finisce tra le braccia di Mendola. Va vicino alla doppietta personale Lio al ventesimo al termine di una bella azione partita dai piedi di Curcio, passata per quelli di Chirillo e chiusa male da Lio. Prende maggiore fiducia la squadra di Golesano al 35esimo quando Russo rimedia il secondo cartellino giallo, l'altro, era arrivato appena 4 minuti prima e lascia i suoi in dieci. I siciliani prendono più campo e aggrediscono con maggiore determinazione ma non riescono mai ad affacciarsi minacciosamente dalle parti di De Sio. L'ultimo brivido arriva infatti per la porta difesa da Mendola con il corner battuto direttamente verso lo specchio da Curcio. Il numero uno ospite sventa come può. Dopo sei lunghi ed interminabili minuti di recupero tra i crampi di molti dei giocatori in campo, il direttore di gara fischia alla fine dell'incontro. Sudato, combattuto, tenacemente conquistato. Un successo che vale doppio per il Sambiase nello scontro diretto contro la Nissa.